Continuano le risate con le commedie dialettali della rassegna Teatro Sotto le Stelle all'Arena BCC di Fano. A far divertire il pubblico di Tre Ponti questa volta sarà la compagnia Il Guitto con El Bar Sotamunjov di Stefano Guidi e Alice Guidi. Appuntamento venerdì 22 luglio alle 21.30. Il nostro è Il Bar Sotamunjov, una commedia che presentiamo quest'anno, che abbiamo presentato nel 2020 ma poi con l'arrivo del Covid siamo stati costretti a bloccare e adesso la riprendiamo qui per Tre Ponti. È una commedia ambientata in un bar, un bar che noi idealmente abbiamo posto sotto il collo di Montegiove, lungo la via Flaminia. È una storia che praticamente è un incrocio di storie, i personaggi frequentatori di questo bar, ognuno con le sue vicende personali, ognuno con i suoi problemi. Si incontrano, si relazionano e danno vita a delle storie che poi sono storie divertenti e che fanno la trama di questa commedia.